Buongiorno, è dei bimbi non avere il senso della misura, cercare un confronto, una competizione anche quando non serve, il fare tante piccole cose e non trattenerne per sé nessuna, non ricavarne nessuna legge, ora che questo discorso possa essere fatto dopo 6.000 anni di civiltà è curioso, ma oggi va così.